Ci troviamo qui alla vecchia cantina di Castelvetro in provincia di Modena per festeggiare il ventottesimo compleanno dell'agenzia Milano Models 2 diretta da Paolo Zaccaria. Eccoci con il grande protagonista della serata, Paolo Zaccaria. Intanto volevo ringraziare tutti gli intervenuti, 150 persone che sono venute a congratularsi con me di tutto quello che è stato questi 28 anni di attività. Io non posso dire altro che grazie, grazie, grazie a tutti. E volevo ringraziare anche qua Massimo Manaresi che... Sì, esatto. Grazie a te Paolo. Sono tantissimi anni che ci conosciamo. Siamo qua per festeggiare 28 anni ma non sembrano 28, esperienza tantissima. Grazie a te Paolo. Sempre dal mondo del fashion system, Rocco Cagné, coreografo e regista di Sfilate. Ciao a tutti! È un piacere essere qui alla vecchia cantina, soprattutto per Milano Models 2 e il grande amico Zaccaria perché Paolo poi è un amico. Io sono conosciuto molto con Paolo. A questo compleanno non poteva certo mancare Paolo Mari, protagonista del Grande Fratello 2009. Ciao, infatti manco alle serate milanesi e romane, ma non posso mancare alle serate modenesi. Quelle ne ho sempre fatto parte e sono qua anche questa sera alla festa della Milano Models 2. E non poteva certo mancare Laura Iancu, la fotografa dell'agenzia. Cosa posso dire? Che io sono fiera, lavorare comunque sempre per la Milano Models, conosco Paolo da una vita. E niente, stasera sono più euphorica che mai, felice di essere qui. Dalla settimana della moda milanese, Vladimir Morarasu, indossatore e fotomodello, modello. Grazie mille Paolo dell'invito, bellissima serata, ci siamo divertiti tanto. Da quest'anno la truccatrice della nostra agenzia è Erika Nova. Ciao a tutti, sì, collaboro con la Milano Models 2 appunto, con Modena Makeup. E siamo molti soddisfatti di questa collaborazione perché appunto in serate come questa è bellissimo poter essere a disposizione anche delle ragazze, delle modelle e di chiunque voglia farsi truccare da noi. Si chiude qui il ventottesimo compleanno dell'agenzia Milano Models 2 diretta da Paolo Zaccaria. Vi aspettiamo naturalmente l'anno prossimo.